We're a high high hope and a high high head We're hoising the flag to be green We must be the... All the ragazzi ha usato il primo, giustana giorgia e simone, via Cera Oh, video Provo, ma ad esempio, cioè Mescolini Che? Mattia Che? Prima stavamo giocando in palestra E abbiamo giocato a nascondina, no? Perché era l'ultima lezione E è andato a nascondaccino in una stanza E la presenza è la palestra l'armadio nonostante è andato a nascondere dietro l'armadio poi siamo andati per cercarlo e era sparito ma quindi cioè praticamente io perché contando no io sono furbo ecco guardate dove si era andato a nascondere è andato dentro questa stanza vai ma no 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 Grazie a tutti.